Bene, finalmente sono riuscito a finire il famoso romanzo di Felicia Kingsley, ovvero Prima regola, non innamorarsi, edito dalla Newton Compton Editori. Che dire, io... allora, devo dire che mi è piaciuto, nonostante vi avessi già accennato che io non sono un lettore di romance, però l'ho visto come una sorta di codice da Vinci, il celebre romanzo Il Codice da Vinci, in salsa, romance, diciamo così. Perché mi ha stupito questa cosa, perché non è semplicemente una storia d'amore tra, diciamo, due latri, tra un furfante e una sorta di Lupin, diciamo così, ma è molto di più, è proprio una storia piena di suspense, di azione, dove si va alla ricerca di un oggetto, direi, quasi leggendario, non vi dico quale per non fare spoiler, e per trovare questo oggetto, e eventualmente per trovare altre cose oltre questo oggetto, e non posso dire quali, si fa una vera e propria caccia al tesoro, con indizi da svelare, manoscritti da tradurre, anche giochi di parole, giochi a incastri, insomma, è una storia veramente che ti fa scorrere le pagine, una dietro l'altra, perché vuoi sapere che cosa succede, vuoi sapere a che punto sono arrivati con le scoperte, e poi ci sono anche i nemici, vengono veramente per tutto il tempo inseguiti, inseguiti da persone misteriose, agenti segreti, di tutto succede, sparatorie, inseguimenti, accadono cose al cardiopalmo. Quindi se voi, allora, se come me non leggete romance, ma volete avvicinarvi a questo genere, secondo me la Felicia ha fatto un'ottima commistione di generi, perché ha mischiato, diciamo, il genere avventuroso alla James Bond, alla Mission Impossible, diciamo così, al genere romance che c'è naturalmente nella storia, perché i due promettono di non innamorarsi, che poi la storia, per la maggior parte del tempo, è ambientata a Venezia. Ma secondo voi, due ragazzi, belli, giovani, che si attraggono a vicenda, potrebbero non innamorarsi nella città più bella dell'Italia e del mondo, ovviamente, è difficilissimo. Quindi io ringrazio Felicia Kingsley e mi prometto di leggere altri suoi libri, che veramente mi è piaciuto. A presto, ciao!